Pogba in marcatura, palla in aria piccola, girata, e il vantaggio, gol di Lopicic, il Montenegrino porta in vantaggio le All-Star dell'Indonesia. Jovinko in aria, va giù, contatto, calcio di rigore, follo di Lobo, 1-2 rapido, Giorente Jovinko, Pirlo, perfetto, spiazza Meiga. Pogba, corre Marchesio, l'ha visto Pogba, palla per lui, leggermente lunga, poi Giorente, dopo il rimpallo, la Juve passa in vantaggio al sedicesimo. Jovinko, Licksteiner, inserimento in mezzo a Giorente, 3-1, Pirlo, Pogba, controllo in aria, vediamo cosa inventa, doppio passo Pogba, con la suola per Licksteiner, sul secondo palo, Giorente, 3 volte, Fernando Giorente, Giorente ne salta 1, poi facile per Jovinko. 5-1, segna Sebastian Jovinko, a destra Pereira, arriva anche Pepe, la prende Pepe, dall'altra parte Coman, Pepe fino in fondo vuole Coman, 6-1 per la Juventus, segna Kingsley Coman. Pepe, punta l'avversario, doppio passo, Pepe, palo e poi Tevez, 7-1, mette la firma, anche la Pasch. Tevez, taglia Pepe, gran palla di Tevez, Pepe in aria, Pepe con il pallonetto, torna a segnare Simone Pepe, bentornato, 8-1 per la Juventus. Un assist e un gol, e non importa se è l'ultimo della golea.